Giocare senza alcuna pressione per il risultato. Questa è la condizione della città di Cosenza, impegnato nella seconda giornata di ritorno del campionato di A1 di Palano Auto Femminile. La squadra calabresi infatti farà visita alla capolista Padova, che oltre a essere la prima della classe, è la squadra che il torneo lo sta letteralmente dominando. Dopo dieci giornate infatti le Venete sono a punteggio pieno e certamente non vorranno fermarsi in casa contro il Cosenza. Dal canto loro le ragazze di Coach Capanna possono giocare il classico match in cui non si ha nulla da perdere e questo potrebbe essere un vantaggio. Importante essere arrivato l'appuntamento dopo una vittoria. Il successo contro l'Equipe Orizzonte dello scorso turno ha confermato il grande equilibrio che regna in tutto il campionato, eccezione fatta per la prima Padova e la seconda Messina. Dalla terza, che è proprio l'Equipe Orizzonte, ci sono cinque squadre in tre punti. In questo gruppo anche Cosenza, che dopo aver praticamente centrato l'obiettivo salvezza, nelle prossime giornate giocherà le gare decisive per posizionarsi al meglio al termine della regular season. Il tutto dopo la gara di sabato, proibitiva ma utile per testare il livello della squadra calabrese.